Il gatto domestico Il gatto viene ai mammiferi, all'ordine dei carnivori, alla famiglia dei felini, alla specie Felis catus. Quando si insedia nell'Egitto dei faraoni, il gatto ha sulle spalle già 50 milioni di anni di vita e di esperienza, ma di tutta la famiglia dei felini è il solo rappresentante di aver accettato di convivere con l'uomo. Una volta che l'uomo ne capisce l'utilità, il gatto diventa una presenza importante nella società, soprattutto per la caccia ai topi, portatori di epidemie. Gli antichi egizi erano convinti che alcune divinità assumessero le sembianze del gatto e i grandi sacerdoti dal comportamento del gatto si pensava traessero messaggi divini. Era il Felis libica. Nel III millennio a.C. nasce l'identità domestica del gatto. La dea egizia chiamata Basset assume la testa, vedete, di un'affascinante e misteriosa gatta, il cui sguardo turba ed incanta. Nel proseguire degli anni la dea egizia Basset avrà anche arti e code da gatto. Tramite i contatti commerciali con gli egizi, il gatto viene conosciuto dai greci e da loro in Europa i topi venivano combattuti dalle donnole e dalle puzzole, animali selvatici però poco credeboli. Quando si scoprono le quali del gatto, bello, domestico, pulito, in odore, ottimo cacciatore, in Grecia è accolto con entusiasmo. Ma siccome gli egizi non vendevano i gatti perché considerati divini, i greci furono costretti a rubarne cinque o sei coppie e furono in grado di vendere gatti poi successivamente negli anni ai Galli e ai Romani, ai Galli e ai Britani. E dall'Egitto così il gatto arriva in tutta Europa e in Asia. Il Giappone, il gatto è apprezzato per la sua bellezza e come simbolo di pace e di fortuna, anche gli arabi iniziano ben presto ad accogliere il gatto con stima e rispetto. Amato e divinizzato dagli egizi, tenuto in alta considerazione estetica e spirituale in Asia, utilizzato e difeso in Europa, il gatto era tuttavia atteso da un periodo drammatico, il Medioevo. In questo periodo viene coinvolto in strage e persecuzioni perché è considerato simbolo del demonio e delle streghe. Ma superate le stupide, sciocche e stragi del Medioevo comincia il riscatto del gatto che torna ad essere un animale da compagnia, compagno dell'uomo apprezzato per la sua bellezza, il suo fascino, la sua regalità. Un omaggio al gatto, questo animale straordinario. Dottor Carradu, si legge e si dice che il gatto sia un compagno di casa un po' solitario, opportunista. È vero oppure siamo di fronte ad uno dei soliti miti da sfatare? Diciamo che sì, sicuramente siamo di fronte a un mito da sfatare, nel senso che comunque col gatto si crea un tipo di relazione, c'è una convivenza, per cui l'opportunismo bisogna capire da quale lato è visto, nel senso che anche la persona potrebbe trarre in maniera opportunista a beneficio del gatto. Sicuramente ha un assetto emotivo e cognitivo diverso da quello del cane, è ancora più diverso da quello dell'uomo come specie gregaria, come specie altamente sociale, ha delle caratteristiche diverse. Ma ciò non vuol dire che sia un parassita, anche perché nella relazione con l'uomo tanto riceve, ma tanto dà. Per cui io tenderei a sfatare questo mito di opportunismo. Certo è che gestisce il rapporto e la relazione con l'uomo in maniera estremamente diversa dal cane, perché in parte, diciamo, detta le sue regole, io dico sempre, tu adotti un cane e nell'altro caso è il gatto che adotta te. Diventi più tu del gatto che non il contrario. Ha delle buone doti, diciamo, se vogliamo usare un termine non proprio calzante, ma che fa capire manipolatorio. Cioè il gatto riesce a entrare molto di più nella tua psiche e cerca un po' di portarti dalla sua parte. Ti considera, come ti ho sempre detto, quasi un ospite nel suo territorio, a differenza del cane che invece si affilia al partner umano quasi come un figlio. Io dico sempre, il gatto ti vede più come un convivente, il cane ti vede come un genitore. Sì, sì, è così proprio. Ecco, si pensa che il gatto non sia obbediente, infatti tu lo chiami e lo vuoi attirare, però lui non obbedisce come il cane. Ecco, perché è considerato un animale libero, non ha gerarchia, insomma, non ha un capo. È davvero così? Oppure un gatto si può invece educarlo? Allora, sicuramente il gatto si può educare a una vita più idonea alla relazione con l'uomo, si può educare a una vita più piena nell'ambito domestico. Sicuramente non ha gli stessi schemi affiliativi che ha il cane, quindi educarlo nel senso di creare una relazione basata sull'obbedienza, sull'apprendimento per imitazione sociale, tutte, diciamo, strategie pedagogiche tipiche del uomo 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 cane, col gatto non funzionano. Quindi è chiaro, se molte volte mi si chiede, anche in ambito comportamentale, se ho questo problema col gatto, vorrei educarlo a... Diciamo che il gatto più che educato va compreso, prima di tutto, ma questo anche col cane. Però nel gatto ancora di più è importante il processo di comprensione e poi della creazione della cosiddetta comfort zone. Cioè, più che educarlo a dei comportamenti, perché il gatto tendenzialmente è un introverso sinistro, l'introverso è colui che non si fida ante l'itteram del prossimo, ma ha bisogno di fare esperienze cognitive individuali per prendere fiducia. Mentre l'estroverso, il cane in genere è il contrario, vede tutto il mondo positivo e poi semmai deve fare l'esperienza negativa per cambiare idea. Quindi partiamo dal fatto che il gatto tendenzialmente è un introverso sinistro. Il sinistro è colui che impara più per esperienze proprie che non per imitazione sociale. Quindi noi più che educare il gatto, lo dobbiamo mettere nella situazione ideale per sviluppare al meglio i suoi comportamenti innati. Quindi molte volte più che agire appunto sulla relazione, noi dobbiamo agire sull'ambiente. Come impostare nell'ambito domestico l'area eliminatoria con la lettiera, l'area ludico-ricreativa, come interpretare i messaggi di stress del gatto quando non va stressato. Cioè creare le condizioni migliori, la comfort zone affinché il gatto possa esprimere al meglio i suoi comportamenti che sono quelli di cui beneficiamo anche noi. Sia a livello emotivo e sia a livello anche pratico. Col cane invece questo non funziona. Nel cane non è che tu gli metti un ambiente ideale e poi il cane è in grado di auto-gestire, auto-sviluppare anche dei comportamenti virtuosi. No, nel cane invece c'è bisogno di seguirlo in maniera pedagogica come si fa con un bambino. Si educa, vedi faccio un esempio banale ma neanche tanto, anche l'educazione ai comportamenti eliminatori. Il cane va educato come il bambino a fare i propri bisogni fuori casa, a non fare i bisogni in casa. Diciamo va educato anche al comportamento eliminatorio. Il gatto no, il gatto mette la lettiera soprattutto se la metti in maniera corretta, semmai lontana dalla fonte alimentare, in uno spazio dove il gatto non è stressato nel momento eliminatorio, vedrai che il gatto da solo impara a eliminare nella lettiera. Per cui diciamo, mentre nel cane c'è bisogno di un continuo impegno pedagogico, nel seguirlo nel gatto va conosciuto, rispettato e fatto in modo che lui riesca in maniera abbastanza autonoma a sviluppare i comportamenti virtuosi, ma ciò non vuol dire che poi anche col gatto non si possano instaurare delle relazioni virtuose in opposizione invece a relazioni non virtuose. Quindi educarlo poi alla fine. Educarlo, sì. Ecco, altre constitutini curiose del gatto che resta un animale enigmatico, è vero? Molto, mistico io direi. Ecco, esatto. Sono le fusa, per esempio, quel ronfare nel corpo e anche l'impastare con le zampe. Quando scegli un oggetto, è vero? Ma anche la persona. Ecco, qual è il significato di questo? Questi sono due significati molto arcaici e ancestrali, perché le fusa è una fonazione fatta gutturale, fatta in parte con le corde vocali, in parte con la laringe, che fa la madre ai gattini dopo la poppata. Ed è un messaggio calmante, cioè mette in atto una serie anche di meccanismi neuroendocrini con produzione di ormoni positivi, quali ossitocina, dopamina, i soliti ormoni calmanti. Per cui è un messaggio calmante che la madre dà ai gattini dopo la poppata, e quindi per farli addormentare, per farli... e anche l'impasto è il gesto che fa il gattino con la madre per stimolare la montata latte. E poi è tipico anche del neonato, è vero? Che stringe il seno della madre? Che stringe il seno comunque, che fa dei movimenti atti a stimolare la produzione di orsitocina da parte della mammella. Questa, soprattutto la... Eccolo qui, questa qui. Eccolo qua, sì. Si sceglie un oggetto... Un oggetto, perché diventa un gesto autocolmante, cioè quell'impasto ricorda le sensazioni positive che il gatto aveva con la madre e quindi si crea un assetto neuroendocrino di pacificazione, di tranquillità, perché ricorda dei momenti molto positivi di accudimento prossimale epimeletico fra madre e cucciolo. Per cui sia le fusa e sia l'impastare diventano un modo per autocalmarsi, autotranquillizzarsi. Le fusa, più che l'impasto che è fatto, se in maniera stereotipata nell'età adulta, può essere espressione di un problema comportamentale, cioè di un gatto fermo nell'evoluzione, cognitiva nella crescita, le fusa conservano un importante valore comunicativo, sia con l'essere umano, perché il gatto spesso fa le fusa proprio per creare una relazione positiva con te, cioè per farti capire che in quel momento lui sta bene e vuol trasferire quel benessere anche a te, ma a volte li fa anche in assenza della componente umana, per autotranquillizzarsi. Cioè non solo quando il gatto sta in una situazione di comfort estremo e quindi vuole manifestare questo comfort anche attraverso la fonesi con le fusa, ma a volte lo fa anche in situazioni di stress proprio per calmarsi. Cioè in situazioni particolarmente stressanti il gatto inizia a fare le fusa perché le fusa hanno un'azione curativa, traumaturgica su se stesso, oltre che sulla componente umana. Poi è stato visto, e questo qua andiamo nel confine fra la medicina basata sull'evidenza e l'aspetto mistico, che le fusa hanno un effetto proprio terapeutico sulle persone. Cioè studi fatti anche all'Università della Minnesota, ma tanti studi dimostrano che la frequenza, proprio gli hertz delle fusa, sono molto simili a frequenze usate anche con gli ultrasoni per la cura di alcune malattie tipo fratture osse, problemi ipertensivi, guarigioni delle ferite. Ce l'hanno visto con basi di evidenze scientifiche, che avere contatti con gatti che fanno spesso le fusa può accelerare alcuni processi di guarigione in alcune patologie umane e addirittura dare degli effetti positivi su patologie croniche come patologie vascolari e quant'altro. Ecco, il gatto, questa è un'altra cosa molto curiosa, che cade sempre sulle quattro zampe, in qualsiasi modo tu lo voglia lanciare, cioè non si fa mai male, il che non è esatto perché può invece farsi male, procurarsi delle fratture, però si sa di gatti caduti dal trentaduesimo piano e rimasti illesi. Ecco, cosa c'è di vero, insomma? Allora, la base, c'è una base, sempre dobbiamo andare sulla base scientifica e sui concetti anche un po' mistici, diciamo, leggendarizzati. Allora, che il gatto cada sempre sulle quattro zampe è un mito da sfatare, nel senso che oltre a occuparmi di medicina comportamentale mi occupo anche un po' di medicina d'urgenza e di gatti in pronto soccorso, fratturati, cadute, ne trovo parecchi. Però è pur vero che il gatto ha un modo delle capacità anche fisiche di riequilibrarsi in caduta, cioè di cadere in maniera competente, cioè di sfuggire ai traumi molto più scaltra, molto più efficace ed efficiente del cane. Quindi, in parte, che il gatto sia in grado di resistere in maniera più efficace ai venti avversi, come traumi, ma anche malattie, è vero. Però che sia immune o che abbia le cosiddette sette vite, questo no. Però, vedi, anche nei detti popolari c'è sempre qualcosa di vero, perché i gatti sono animali molto resilienti, in grado di opporsi agli eventi avversi, ma anche di rimodulare le situazioni. Per cui, diciamo che in parte, il fatto che il gatto sia più indipendente, in grado di autorisolvere i propri problemi, anche in ambito medico, in parte è vero. Sì, sì, sì. Ecco, e mentre vediamo questi fumetti assai simpatici, insomma. Ecco, infine, il gatto che ama soprattutto la padrona, la donna, è vero? Secondo lei, con gli umani torna a essere come il bambino, insomma, chiede sempre qualcosa alla mamma. Allora, diciamo che il gatto, più che amare, più la donna ama la parte femminile dell'essere umano, che come sappiamo ce la sia l'uomo che la donna, cioè i meccanismi, i meccanismi con cui il gatto imposta la relazione. Diciamo che il gatto, rispetto al cane, è più fornito di retropensiero, cioè di portare la relazione sul suo piano. Quindi anche i meccanismi relazionali sono quelli dell'ottenere dal partner umano cose in maniera un po' più, usiamo un termine un po' in proprio subito, cioè riesce a essere più con meccanismi tipici dell'aspetto femminile, cioè di ottenere cose senza prepotenza, ecco, in maniera più, però non è vero in assoluto che, poi è chiaro che mettendo in atto spesso dei meccanismi epimeletici per attrare attenzione, cioè anche là è un meccanismo abbastanza furbo, cioè di richiamare comportamenti infantili per attirare attenzioni e cure a sé, è chiaro che questa leva sulla componente femminile agisce in maniera molto più efficace rispetto alla componente maschile. Bene, dottor Carradù, grazie di questa testimonianza come sempre eccezionale, troverete l'email del dottor Carradù e anche il suo numero di telefono di ufficio, di laboratorio, nelle versioni sui social, perché queste interviste, lo ripeto sempre, le news e i focus che trasmettiamo sull'Ira TV tutti i giorni, vanno poi multimedializzati su tutti i social più importanti, innanzitutto YouTube che è la piattaforma dei video, poi anche su Facebook, poi anche su Twitter e su LinkedIn, basta che voi su Google scriviate quotidiano medicina e quindi usciranno tutte le versioni che più vi piacciono, insomma tutti i social che più frequentate e troverete anche l'intervista con lui, con Carradù e la sua email e il suo numero di telefono al quale lui risponderà sempre per rispondere alle vostre inquisiti, alle vostre esigenze.